Buonasera, inizio il mio discorso con un sentito ringraziamento a tutti i colleghi priori e ai vicari che questa sera ci hanno onorato della loro presenza, agli archivisti delle consorelle, alla famiglia Cardini, la signora Luciana con la figlia, al professor Nicolosi, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Siena, ai numerosi colleghi di Antonio e a tutti gli ocalioli che questa sera hanno voluto partecipare a questo evento che per noi non è una semplice presentazione di un libro, ma si tratta di un ricordo di un caro amico. In ultimo permettetemi un saluto e un sentito ringraziamento alle due persone che mi seguono qui accanto, a Raffaele Ascheri che fortemente ha voluto questa iniziativa e a Massimo Bianchi che ci ha onorato della sua presenza. È un grande onore per me esprimere un pensiero e un ricordo di Antonio Cardini, un caro amico, un uomo singolare, un punto di riferimento per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Antonio era una persona di straordinaria affabilità, una figura elegante e raffinata, rivace e aperta al dialogo e al confronto. Il mio ruolo oggi è quello di parlare di lui nel suo rapporto con la contrada, lasciando agli altri relatori la riflessione sulla sua preziosa attività di studioso e ricercatore universitario. Antonio amava la sua città e la sua contrada, verso le quali esprimeva un congalante naturalezza, non ostentava mai la sua brillante intelligenza e non faceva mai sfoggio dei suoi importanti ruoli, in contrada come nella professione. Si calavano nelle diverse situazioni con spontaneità e schiettezza, con quella composta serietà scevra da formalismi. Antonio sapeva arrivare al cuore della gente con la sua garbata ironia, accompagnata da una ricca dialettica e una sagace vivacità. Ora che ne parlo mi sembra di vedere il suo sorriso, spuntare tra i suoi baffi folti e mi pare di sentire la pespicace delle sue battute, compagno di tanti notti contro D'Aiole e quella sua tipica risata grassa, accompagnata da una tirata di sigaro. Il suo carisma e la sua cordialità gli permettevano di avvicinarsi a tutti, coinvolgendo anche i più giovani, ai quali rivolgeva preziosi consigli, tra i quali pensare la storia, oltre che scriverla e studiarla. Nella sua lunga carriera ha avuto diversi allievi tra i nostri contraddaioli, dai quali però pretendeva più che dagli altri, perché essi avrebbero dovuto dimostrare che anche negli studi gli ocagliari sarebbero stati i più bravi. Evidentemente era solo un modo meno convenzionale per stimolarli con leggerezza a preparare al meglio il loro futuro. Forse non mi crederete se vi racconto che soltanto negli ultimi giorni ho realizzato che questo importante appuntamento era stato casualmente fissato proprio nel giorno in cui ricordava l'anniversario della sua scomparsa. Antonio se ne andava proprio il 25 agosto del 2014. Casualità? Destino? Sesto senso? Non lo so. Certo è che Antonio oggi rilievo qui con noi perché l'unico modo per tenere in vita che è rapito dalla morte è ricordarlo. Un noto scrittore francese, Antoine de Saint-Exupéry, nel suo famoso romanzo Il piccolo principe diceva, è il tempo che ha perduto per la tua resa che ha fatto la tua resa così importante. È vero, è il tempo, l'energia che Antonio ha dedicato ai suoi affetti, alla sua città e alla sua contrada a renderlo unico e immortale. Grazie. Passo la parola a Massimo Bianchi. Buonasera a tutti. Ringrazio in primo luogo l'onorando governatore della nobile contrada dell'OCA, Francesco Scillerà, il presidente della biblioteca Raffaele Ascheri e l'amico Enrico Toti dell'invito che mi hanno fatto a parlare in questa sede, devo dire per me abbastanza inusuale, del ricordo umano e scientifico che nel caso del professor Antonio Cardini sono indiscutibilmente saldati insieme. Mi è stato chiesto di presentare la figura di Antonio Cardini, mettendo in evidenza sia la biografia, sia le sue attitudini scientifiche e ben volentieri lo faccio, cercherò di farlo, anche se contenere questa personalità, il profilo nel tempo a disposizione è un'impresa molto difficile, anzitutto perché mi trovo a farlo in un luogo dove era ben conosciuto, apprezzato come la sua contrada e poi perché significa riassumere una lunga esistenza, purtroppo non anagraficamente, ma assai densa di rilevanti contenuti scientifici, di esperienze di ricerca, didattiche, di governance a vari livelli dell'Università di Siena, che possiamo definire senza timore di smentita essere il suo ateneo, nel quale ha percorso tutta la vita accademica e universitaria. Ringrazio di aver scelto anche me, fra i tanti allievi di Antonio Cardini e che Antonio Cardini ha avuto l'occasione di incontrare nel suo cammino accademico, primo fra tutti il professor Stefano Maggi, ma anche il professor Saverio Battente, la professoressa Eleonora Belluni, che ancora meglio di me avrebbero potuto assolvere questo compito. Con alcuni di loro, peraltro, abbiamo avuto occasione di ricordarlo in altre occasioni, organizzate dall'Università, dall'Accademia degli Intronati, in particolare con Stefano Maggi, ricordo, abbiamo redatto poco dopo la sua scomparsa, la sua completa bibliografia, per una memoria pubblicata su studi senesi, nel bullettino senese di Storia Patria, e con Eleonora Belloni per un lavoro molto attento di schedatura della sua biblioteca personale, che la famiglia ha poi voluto donare in un fondo appositamente intitolato alla biblioteca del circolo giuridico e in parte al Comune Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali. Ricordo poi tanti vari interventi svolti in occasione della dedicazione alla sua memoria dell'Aulamagna della Facoltà di Scienze Politiche al Presidio Mattioli, di cui aveva seguito anche materialmente i lavori e la progettazione, sia durante la consegna di una grande parte appunto dei suoi volumi, dei suoi libri, a quel circolo giuridico che lui aveva quotidianamente frequentato per tutta la sua vita. Interventi svolti anche in quelle occasioni con grande competenza, ma anche con l'affetto derivante da lunghi anni di amicizia comune da parte di Mauro Moretti, Saverio Battente, Maurizio degli Innocenti, Paolo Nardi e Giovanni Minucci. In anni ormai lontani sono stato uno studente di Antonio Cardini, in alcuni corsi da lui tenuti, come quello di Storia del Movimento Sindacale e poi di Scienza della politica che lui tenne per un anno soltanto, in spirito di servizio e con grande umiltà, per poi collaborare con lui più attivamente negli ultimi 5 anni della sua vita. Antonio Cardini era nato a Siena nell'agosto 1950, laureato in Scienze Politiche nel 1973, con una tesi in storia contemporanea dal titolo Il Gruppo Liberista del Giornale degli Economisti, 1890-1900, relatore il professor Roberto Vivarelli e aveva poi intrapreso i vari gradi della carriera come ricercatore nel 1981, professore associato nel 1987, professore ordinario infine nel 1994. Una carriera accompagnata da una intensa e proficua attività didattica in tante discipline, storia del Movimento Sindacale, storia della storiografia contemporanea, storia dello sviluppo, storia contemporanea stessa, storia di istituzioni dei paesi afrasiatici, storia economica, storia delle relazioni internazionali contemporanee, discipline che aveva insegnato dapprima nel corso di laurea in Scienze Politiche, nella Facoltà di Giurisprudenza, nella Facoltà di Economia e poi infine nella Facoltà di Scienze Politiche, da lui stesso fondata nel 1997, una facoltà fortemente desiderata, pensata insieme ad altri colleghi e di cui fu poi primo preside per oltre un decennio. E proprio come preside della Facoltà più giovane dell'Ateneo contribuì in modo determinante allo sviluppo e al consolidamento, svolgendo anche una puntuale e continua attività di ricerca all'interno di un centro, il CIRAP, il Centro di Ricerca Interuniversitario sulle amministrazioni pubbliche, da lui stesso organizzato. Tralascio per motivi di tempo le tante partecipazioni ad accademie, società scientifiche, istituti culturali, i tanti comitati scientifici e editoriali di riviste alle quali prese parte, ma che sarebbero tutti interessanti da elencare, quantomeno per dare l'idea e sottolineare i tanti interessi di studio di Cardini e soprattutto dimostrano quanto la sua personalità di studioso sia stata autorevole nell'ambito della comunità accademica. Ma non posso però tacere ovviamente l'analisi del contributo che ha saputo e voluto dare alla storiografia contemporanea. Era allievo di Roberto Vivarelli, ma anche, come amava lui dire lui stesso, allievo di Mario delle Piane. Antonio Cardini ha concentrato i suoi studi nel periodo che va dall'unità d'Italia al secondo dopoguerra, abbracciando un intero secolo di storia italiana e i temi della sua ricerca hanno spaziato dagli aspetti politici a quelli economici nazionali, senza dimenticarsi di dedicare alcuni studi anche all'approfondimento della storia della città e del territorio di Siena. È possibile, a mio avviso, individuare almeno tre filoni, grandi filoni all'interno della sua ricerca. Nel primo, il suo percorso scientifico ha seguito a lungo il tema del liberismo, protezionismo e del decollo industriale italiano negli anni a cavallo fra 8 e 900, sul cui aveva scritto anche i primi due libri della sua carriera a inizio anni Ottanta, dal titolo Stato liberale e protezionismo in Italia, pubblicato a Bologno dal Murino, e la cultura economica italiana all'età dell'imperialismo, pubblicato invece nella collana di studi sienesi di Vito Reggio Fre di Milano. In questi studi Cardini proponeva una riflessione per la comprensione di un problema fino ad allora trascurato, ovvero la funzione politica della scienza economica italiana di fine ottocento, che doveva essere necessariamente quella di critica e di stimolo per la classe dirigente sui caratteri dello Stato nato da risorgimento e nel dibattito sul protezionismo notava il riflesso delle due bellezze reali di uno Stato di classe, dove alla miseria delle condizioni di vita delle masse più popolari, tema lui molto caro e al quale dedicherà più di uno studio, faceva da contraltare la violenza delle istituzioni esercitata attraverso l'imposizione indiretta e dove emergerà con chiarezza l'idea di uno sviluppo forzato indotto dalle classi dirigenti, un indirizzo questo fortemente criticato da molti economisti liberali come Antonio Doviti De Marco, Matteo Pantaleoni, Vilfredo Pareto e la conclusione alla quale giungeva Cardini era quindi quella di una mancata formazione di una grande forza politica, liberal, democratica e laica, sulla quale tornerà più volte anche in ulteriori e successivi lavori. Negli anni seguenti poi i suoi studi si concentravano sulla nascita dell'economia come scienza, sui rapporti fra economia, politica e amministrazione attraverso l'analisi del giornale degli economisti, sul quale aveva sostenuto i nostri prezzi di laurea e molte altre riviste e fonti a stampa, portandola a scrivere vari saggi su questo argomento, nonché la fortunata biografia pubblicata nel 1985 con l'editore La Terza dal titolo Antonio Doviti De Marco, la democrazia incompiuta 1858-1943, quello che mi avviso può dirsi il migliore lavoro di Cardini e che forse lo fece conoscere alla più vasta comunità accademica, ne parlevamo qualche giorno fa anche con il professor Nicolosi. Da riuscire in questo fenomeno proprio l'interesse di Cardini per la figura di Antonio Doviti De Marco, del quale ricostruì non propriamente una biografia, ma piuttosto l'intera figura pubblica che incarnò De Viti De Marco, dove le vicende intellettuali e politiche che contraddistinziano l'economista liberale non sono ricondotte unicamente alla tematica meridionalista, ma sono riproposte in una visione di insieme, essendo egli considerato uno dei principali esponenti di una intera generazione di economisti e politici vissuti negli ultimi decenni dell'Ottocento e attivi fino agli anni Trenta, che grazie alle loro riflessioni furono gli ispiratori di molti fermenti sociali, politici, culturali, economici, che poi giunsero a compimento invece durante e lungo il Novecento. Fa parte di lei completa questa attenzione di Antonio Cardini per De Viti De Marco, una preziosa guida bibliografica ai suoi scritti pubblicata l'anno seguente nel 1986 per le edizioni di Asceli di Roma, con quasi 400 voci analizzate una per una, che concludono insieme di scritti sugli economisti liberali che Cardini pubblicò nel corso di vari anni e che ancora una volta contribuisce a dare conto dell'ampiezza dei temi e della produzione di vitiana che spazia dalla teoria monetaria e creditizia alla scienza dell'efficienza, alla storia, al diritto, alla politica interna, estera e alla storia. E questo per concludere un primo filone di ricerca, perché poi la questione dello giruppo, che comunque sottostava anche in queste opere di carattere più importantemente di teoria economica, la questione dello giruppo sottostava anche al secondo filone importante per i suoi studi, che era rappresentato dal miracolo economico, culminato dapprima nella pubblicazione del libro Tempi di Ferro, Il mondo, l'Italia del dopoguerra, 1992 e Molino, e poi tornare sull'argomento nel 2006 con l'organizzazione di un convegno nazionale che vide coinvolti i principali studiosi della materia dal titolo Il miracolo italiano, seguito del quale vide la pubblicazione un volume curato appunto da Cardini sul miracolo economico italiano. Alla fine dell'Italia rurale Cardini attribuì un'importanza sempre crescente e lo fece anche in questo caso attraverso gli occhi di una rivista fondamentale come Il mondo di Mario Pannonzio, rivista che negli anni dal 49 al 66 incarnò appieno il pensiero laico liberale dell'Italia repubblicana uscita dalla dopoguerra e che fu anche una valida palestra per un gruppo di grandi giornalisti che oltre a svolgere inchieste molto serie su molti fatti dell'epoca diventero ben presto centrali nel dibattito sulle grandi tematiche di quegli anni come la guerra fredda, il terzo mondismo, il ruolo degli intellettuali, la nascita del centro-sinistra, solo per citarne alcune. Cardini analizza molto bene il tentativo dell'Italia non deve riaffermare una cultura politica laica di stampo occidentale riformatrice che non ebbe però la fortuna o la capacità di inserirsi stabilmente in mezzo a due blocchi di ripartizione di allora del potere fra cattolici e comunisti e registra il fallimento della formazione di una nuova classe dirigente liberale democratica e di ispirazione occidentale che potesse governare da ruoli chiave il processo di modernizzazione del paese. Tanto che alla data di chiusura della rivista, nel 1966, l'Italia si trova sì modernizzata dal punto di vista strutturale, ma priva di una elaborazione culturale adeguata all'altezza di tale governance. A Mario Pannonzio peraltro Cardini dedica espressamente un volume nel 2011 dal titolo Mario Pannonzio, giornalismo e liberalismo, televisioni scientifiche italiane, nel quale emerge con chiarezza che Pannonzio fu al centro di un'azione politica assai rilevante, regista della cultura politica italiana democratica di metà del Novecento, convogliando intorno a sé un notevole panorama, un vero e proprio universo intellettuale composto da scrittori, artisti, critici, giornalisti e politici per offrire alle classi medie e a certi popolari il miraggio almeno di una terza via intrisa di cultura politica, democratica e occidentale. Il volume miscellanio invece di cui Cardini fu curatore sul miracolo economico, ci offre invece una chiave di lettura assai utile per comprendere il Novecento italiano attraverso il fenomeno dell'industrializzazione che anche in Italia conobbe una crescita esponenziale dopo l'attuazione del piano Marshall, l'inserimento del paese nel contesto della scelta occidentale del 1948 e nel più vasto quadro dell'economia europea e internazionale. Da allora crescita produttiva significò per l'Italia anche una profonda trasformazione sociale che doveva investire tutti i settori, nessuno escluso, con conseguenze sociali di vasta portata, prima fra tutte la fine dell'Italia orale risalenta a Meduevo, la trasformazione dell'industria con piccoli e grandi imprenditori, la comparsa sulla scena dell'automobile, del telefono, della televisione che modificavano i costumi degli italiani e definivano anche una diversa presa di coscienza delle possibilità dell'universo femminile con le richieste di tutori sociali, con perfino i partiti politici costretti a rincorrere e adeguarsi grandi cambiamenti in atto. E un ultimo filone di ricerca, come già accennato, è stato poi quello della storia locale, da considerarsi un vero e proprio tributo alla sua città. Nel corso degli anni Cardini dedicò infatti tanti saggi, con argomenti vari, anche diversi assieme al suo territorio. Fra questi si ricordano tra gli altri un paio di importanti volumi, la curatela del 2004, intitolata Il suono della lumaca, i mezzati nel primo novecento, che analizzava le campagne senesi e che denota il grande interesse di Cardini per il tema del rapporto con la campagna, in particolare con questo istituto della mezzabria e che a partire dal caso senese riesce a inquadrare nel più vasto problema dell'Italia rurale. E' una raccolta di articoli, elaborati in una visione di insieme, dal titolo Storia di Siena, dal risorgimento al miracolo economico, edita da Nervini, Firenze nel 2009, di cui poi ci parlerà più diffusamente Raffaele Ascheri. Davvero un'attenzione quasi innata, naturale, di Antonio Cardini per la storia del territorio, svolta quasi sempre all'interno di riflessioni più generali, che provenivano dagli studi fino a quel momento affrontati e si spiegano così i tanti contributi dedicati alla città. L'arrivo della ferrovia e del treno, una tematica che poi Stefano Maggi ha sviluppato ampiamente negli anni a seguire, alla storia di tante istituzioni, dalla Chiesa Senese, con puntuali interventi sul cattolicesimo sociale a Siena, centrato sull'attività di Bianca Piccoloni e Clementini, all'Università di Siena, in particolare negli anni del risorgimento, al Palio, perfino alla sua contrada, all'Oca, alle lotte contadini, ai partiti, alle strutture amministrative della città. Ma aspetto ovviamente, come detto a Raffaele Ascheri, parlare e delineare la visione di Cardini relativa alla storia di Siena, ma voglio solamente significare il punto di partenza dal quale tante sue riflessioni invece presero avvio e cioè da quel concetto di Siena città irraggiungibile che rimandava subito a una sorta di problema storico di arretratezza che Cardini non vedeva sempre unicamente in un'accezione negativa, ma piuttosto in una difficile convivenza con la modernità, in modo particolare riferito alle infrastrutture, ai servizi, che è questa poi tutto sommato una cifra che per molti decenni comune e caratteristica a questo territorio. E oltre a queste citate vi sono poi importanti lavori monografici di Antonio Cardini, molti sono i contributi in volumi collettani, riviste così come in atti di convegno, voci di dizionario che sono ben distribuiti e collocati in continuità scientifica e di ricerca nell'arco temporale che va dal 1975 in avanti. Una cosa da sottolineare i suoi ultimi saggi sono pubblicati postumi, dimostrano come Cardini, nonostante l'incedere dalla malattia, le precarie condizioni di salute, avesse continuato a lavorare, studiare e scrivere fino alla primavera del 2014. E vorrei dedicare qualche parola e qualche riflessione anche al vasto patrimonio bibliotecario che Antonio Cardini possedeva e a chi ha lasciato la sua morte, anche per onorare un grosso lavoro reparatorio che facevamo qualche anno fa insieme all'onora Belloni, prima di consegnare materialmente alla catalogazione, alla valorizzazione della biblioteca del circolo giuridico, i molti volumi che Antonio Cardini aveva amorevolmente raccolto nella sua vita di studioso, spesso ricercati anche con la cura e la passione del biblioflio, a dimostrazione dell'interesse e dell'amore che lo studioso deve avere proprio per i libri. Un qualunque fondo librario che sia di pregio o no, questo poco importa, dice molto sull'anima dello studioso che lo ha composto e tutti i vari fondi hanno delle caratteristiche particolari che li rendono unici, riconoscibili. Scavare all'interno di essi vuole dire entrare in una sorta di colloquio intimo con colui che li ha raccolti, vedere le sue linee di ricerca, scrutare bene i suoi interessi scientifici, le sue ragioni, le sue motivazioni di studioso e perfino le persone con le quali è venuto in relazione e in più stretto contatto intellettuale. Il fondo Cardini oggi che è pienamente fruibile agli studiosi, agli studenti, si distingue per essere in gran parte composto da libri stampati da grandi case editrici che pubblicano solitamente testi universitari, La Terza, Molino, Angeli, Feltrinelli, Marsilio, Carocci e tante altre case editrici italiane e straniere. È un fondo importante però soprattutto per le tante collane prestigiose degli archivi di Stato, ricche di inventari di grande valore, che è anche per pubblicazioni su fondi appartenenti a tanti piccoli archivi locali. Così è importante anche per le tante pubblicazioni di quella che viene comunemente detta e chiamata letteratura grigia, ovvero quei testi non pubblicati attraverso i normali canali del commercio librario, ma diffusi dagli stessi autori o dagli enti che li producono. Come ovvio molti di questi materiali non erano eppure presenti nel circolo giuridico e quindi oggi vanno a integrare una già vasta mole e massa documentaria. Il fondo Caddini è poi particolare perché testimonia i tanti interessi di un docente che spaziavano dalla storia dell'età moderna a quella contemporanea fino ad arrivare anche alla instant history, cioè la storia del momento. Spaziavano dalla storiografia alla storia delle relazioni internazionali, alla storia dei sindacati, di movimenti politici. Vi si trovano volumi di storia della Chiesa, dei movimenti cattolici, sul concilio di Trento, sui grandi santi come Ignazio di Loiola, Santa Caterina da Siena, magari accanto a volumi anche di storia dell'Islam, molti volumi che riguardano la storia del fascismo, molti volumi su tanti economisti, Marx, Salvemini, Rosselli, Luzzato, Verri, De Felici e tanti altri. La storia dei partiti è largamente presente in Caddini, ma in fondo Caddini si caratterizza anche per i tanti studi in onore di colleghi e le pubblicazioni minori, anche di volumi, attiratura limitata. Sono opere, queste poco diffuse, anche queste sul mercato editoriale, che attirano quindi l'interesse di tanti studiosi. Di particolare importanza sono poi libri di storia locale, frutto di omaggi, come si legge dalle dediche e delle autografi presenti, ma anche risultato molto spesso di oculate acquisizioni nel mercato dell'usato, come si vede da alcune annotazioni a lapis presenti, provenienti da qualche libreria antiquaria. Sono proprio queste pubblicazioni minori che parlano di tanti argomenti, parlano di immigrazione, di letteratura, del mondo contadino, della mezzadria, di Toscana, dei conflitti sociali, dei primi scioperi, a dare un particolare sapore o anche una particolare fisionomia a questo fondo. Ci permettono di dare risalto a quella microstoria che viene da racconti, ma anche dall'analisi dei dati stessi, perché non si può fare molte volte una seria ricerca macrostorica senza l'attenzione precisa, puntuale e documentata dai fatti della microstoria. E come conclusioni possiamo e posso sicuramente affermare che Antonio Cardini è stato un grande studioso, uno studio faticoso, a tratti molto duro, che portò avanti nonostante i tanti impegni di governo e amministrativi che assunse e nonostante, voglio dirlo anche con forza e chiarezza, le dure prove e preoccupazioni per la salute, che mi seppe da subito affrontare con tanto coraggio, straordinario coraggio, da cristiano autentico. Il mestiere dello studioso, lo sappiamo, si deve esercitare in solitudini al fine di raggiungere la massima concentrazione possibile, ottenere anche dei buoni risultati, ma quando si lavora in silenzio, lo sappiamo, è più facile essere assaliti dall'angoscia, dalle preoccupazioni, anche se la passione per le indagini sulle fonti storiche, il gusto per la scoperta del nuovo e dell'inedito, che guidano sempre chi fa ricerca, possono essere un efficace antidote anche ai pensieri più tristi. E Antonio Cardini, pur sottoponendosi alle tante cure, ai controlli che gli venivano imposti periodicamente, anche fuori Siena, non si abbandonò mai allo sconforto, né trascurò il suo lavoro, ma continuò a svolgere anzi con grande entusiasmo, conseguendo importanti risultati, come dimostrato, come abbiamo visto dalla sua produzione scientifica molto vasta, come non spaventarono mai tanti delicati compiti di governance dell'Ateneo, che gli venivano affidati proprio per le sue capacità riconosciute, trova ancora infatti il tempo per studiare, per pubblicare, con una grande capacità di conciliare ricerca e impegni accademici. Negli ultimi incontri nella sua abitazione privata era molto triste, perché era stato costretto a chiedere il pensionamento anticipato e questo significava per lui dover rinunciare alla sua principale vocazione, quella dello studioso e al piacere di scrivere ancora. In quegli ultimi incontri, mi ricordo, non tralasciavamo mai di parlare di palio, era una delle, a volte anche delle motivi in cui ci prendevamo un po' in giro, ma era, ricordo che negli anni in cui lui era governatore, io ero mangino, ci trovavamo spesso in ascensore dall'università e lui faceva, Massimo mica vorrai rifurgare il tuo professore, ma professore se importa anche il rettore, non ci sono problemi, possiamo fare di tutto, però era simpatico questo continuo interloquire. E in ultimo vorrei sottolineare due aspetti che lascio come ideale eredità del passaggio terreno di Antonio Cardini nell'Accademia senese e anche nella città. La prima cosa è che gli amava grandemente la facoltà di scienze politiche, quella facoltà che aveva visto sempre come un luogo privilegiato di formazione completa della persona e che aveva prima pensato, teorizzato e poi realizzato in pratica, per dirla con Giovanni Minucci, realmente plurale, a più voci, tenendo sempre presente per questo l'esigenza primaria e lo scopo principale della formazione dello studente. La facoltà di scienze politiche doveva essere in grado di intercettare e trovare risposta a tutte le domande che la complessità della polis richiedeva e un laureato in scienze politiche doveva disporre di tutti gli strumenti necessari per comprendere e leggere la contemporaneità, a partire dalle materie di più solida tradizione di studio già impartite negli anni precedenti nel preesistente corso di laurea, fino alle nuove discipline che si rendevano necessarie per esercitare le nuove professioni derivanti appunto dalle scienze politiche. Il secondo aspetto nasce da una considerazione e da una riflessione di tipo personale con la quale concludo. Esistono molte categorie di docenti universitarie, ma forse pochi maestri. Antonio Cardini per me si può considerare per molti motivi un maestro, perché non conta per quanto tempo abbia potuto esercitare questa funzione nei miei confronti, ma nel tempo che gli è stato consentito l'ha fatto saggiamente, perché il maestro è colui che sa come farti interessare da prima, apprezzare poi e infine amare una disciplina, in questo caso la storia contemporanea, colui che sa insegnare un metodo di studio, di applicazione, di tecnica della ricerca storica, colui che è capace di elagire consigli nell'intrigato mondo universitario e accademico e soprattutto colui che gode si compiace della crescita degli allievi, lasciandoli tuttavia liberi in intraprendere la propria strada di cerca. E questo non importa se lo hai fatto solo per un anno, un mese o un giorno, in porta averlo fatto. Grazie. Buonasera a tutti, i ringraziamenti sono già stati fatti, quindi sarebbe veramente pleonastico ripeterli, posso dire, credo di non essere solo a pensarlo, che è una bella serata, è un bel pomeriggio e questo ci fa piacere perché ci dà la possibilità appunto di ricordare una figura, come tante altre ovviamente, ma oggi, stasera è di lui, che parliamo che ha reso Siena più, credo si possa dire, degna di essere vissuta, perché quando una persona impiega buona parte della sua esistenza a spiegare, a far conoscere meglio la realtà in cui si vive, è sempre una persona benemerita, questo a prescindere da tutto quello che Massimo Bianchi ha detto dal punto di vista accademico e anche umano su Antonio Cardini. Ma io, come ha accennato lui, ha accennato Massimo, ho il grato, il lieto compito di parlare molto sinteticamente di un libro che forse a livello di storia locale rappresenta un po' la sintesi di quella che appunto era la visione di Antonio Cardini sulla storia municipalistica. della città. Questo libro, la storia di Siena, dal risorgimento al miracolo economico, quindi una periodizzazione che è molto chiara, questo non è un secolo breve, perché 1861-1961, quindi un secolo pieno, ma si va anche ad anticipare ovviamente e si va anche un po' oltre, anche se come ha detto Massimo, poi al 70 sostanzialmente in questa raccolta di saggi ci si ferma, quindi crocianamente ci si ferma sostanzialmente a 50 anni fa e quindi quello che secondo il Benedetto Croce della teoria e storia della storiografia è il limite corretto per poter fare storia senza avere una passionalità troppo accesa. Due parole a quello che ha detto Massimo, proprio sullo stile, lo vorrei aggiungere sullo stile che aveva, si legge in questo libro e negli altri scritti che ho avuto modo di consultare, Massimo sicuramente ne ha consultati di più, lo stile di Antonio Cardini è uno stile piuttosto anomalo all'interno di quello che è lo stile di solito di molti storici italiani, uno stile asciutto, uno stile essenziale, avulso da ogni esoterismo manierato che spesso accompagna invece dei testi storici che purtroppo, e questa è la drammatica realtà, in Italia vengono letti poco, questo è il motivo per cui sono spesso ex giornalisti o giornalisti a diventare gli storici più letti, se storici li possiamo considerare, proprio perché lo storico accademico di solito ha difficoltà a farsi comprendere, per tanti motivi che ora non è qui il caso di affrontare. Invece Antonio Cardini aveva, a mio modo rivedere, questa caratteristica, uno stile che ha una sua medietas e che può essere veramente letto da chiunque, cioè qui anche chiunque abbia una cultura media può veramente entrare nel cuore dei problemi, se avesse usato un po' di humor e di storia virtuale sarebbe stato un perfetto storico inglese, storico anglosassone, ma la linea tendenziale dal punto di vista stilistico è questa. Io soprattutto, prima di dire quali sono i tre argomenti fra i tanti che sono andato a scegliere e di cui vorrei parlarvi, il discorso anche dell'onestà intellettuale. Ecco, chi come Massimo, per motivi professionali, per passione, chi frequenta la storia sinese sa che ci sono alcuni passaggi in questo periodo, appunto 1861, 1960, 70, che sono quelli che se uno li va a cercare capisce subito l'impostazione e l'onestà intellettuale dello storico che ne sta scrivendo. In qualche occasione inevitabilmente la faziosità di parte prevale, prende il sopravvento su quello che dovrebbe essere l'equilibrio. Ecco, io, avendo ormai un po' di esperienza in questo senso, sono andato a controllare questi passaggi a leggermi e a rileggermi. Antonio Cardini aveva un equilibrio raro, quindi un'onestà intellettuale rara nell'affrontare questi passaggi. Chi è del settore storico si può immaginare quello a cui faccio riferimento, ma qualche cosa dirò anche nella scelta di questi tre argomenti da trattare molto rapidamente. Vorrei iniziare a dire qualcosa che riguarda una vicenda poco riconosciuta all'interno della storia della Chiesa senese, ma siamo nel cuore dell'Ottocento. Poi vorrei soffermarmi sempre rapidamente su quello che era il clima e anche i risultati elettorali che ci furono esattamente un secolo fa. Qual era la situazione politica cittadina esattamente nel 1920, quindi un secolo orzono. E poi quello che, come ha accennato anche Massimo, è uno dei punti, a mio modo di vedere, più convincenti all'interno dell'opera di Antonio Cardini. La Siena fa 45 data assolutamente periodizzante e 1970, che tra l'altro, come dirò dopo, è il momento in cui, questa è una cosa da ricordare, Siena ha censimento alla mano e il momento in cui Siena ha più abitanti. Mai sono stati, da quello che risulta, più numerosi di quanto fossero nel 1971. Allora, il primo di questi argomenti concerne questa polemica, questa querelle che ci fu tra un prete di campagna, un prete, diciamo, di periferia, si potrebbe dire oggi, e il vescovo di Siena. Allora, siamo a metà degli anni 50 del 1800 e c'è un contrasto che è molto interessante perché, come sempre fa Antonio Cardini, ovviamente questo contrasto è del tutto locale, ma ha una ripercussione, riflette e riverbera tutto quello che è il clima nazionale, per non dire in qualche modo anche internazionale. Parroco di Santa Petronilla, Carlo San Casciani, è uno dei parroci di idee, di sentimenti liberali, patriottici, risorgimentali. L'arcivescovo che viene creato tale da un Papa che insomma ben conosciamo, il famoso Pionono, che aveva già superato la fase più o meno aperturista, e nel 1855 viene nominato Ferdinando Baldanzi, il nuovo vescovo di Siena. Che cosa accade? Accade appunto che Carlo San Casciani, parroco di Santa Petronilla, diventa un po' l'alfiere di quello che è la posizione di alcuni, forse di molti sacerdoti del basso clero, usiamo questo termine che è sempre efficace, il quale professa certamente delle sue idee liberali. Addirittura nella rievocazione che lui fa qui a San Domenico dei morti di Cortatone e Montanara, il 16 settembre 1859, lui arriva a criticare, a mettere fortemente in dubbio la licenità del potere temporale, del temporalismo. Ora, siccome siamo tra l'altro a stretto giro di posta, a meno di un mese da un anniversario che storicamente è molto importante, la breccia di Portapia, cercheremo di fare qualche cosa, stiamo un po' organizzando. Insomma, questa è una posizione, una prova di posizione veramente significativa, che fa capire come in quel contesto, anche a Siena, non solo ci fosse una contrapposizione molto decisa, esplicita, forte, fra il mondo l'elite patriottica, liberale, laica e la Chiesa, ma anche all'interno della stessa Chiesa, all'interno della stessa Chiesa cattolica c'era una dialettica, chiamiamola così, molto forte. E come va a finire questa vicenda tra il parroco di Santa Petronilla e il Vescovo? Ovviamente, come sempre, l'alto clero vince sul basso clero e il povero Carlo Sancasciani, che già pare non se la passasse benissimo come appunto gran parte del clero non alto, viene addirittura sospeso a Divinis. Quindi c'è un intervento drastico, veramente drastico, che fa capire veramente una dinamica molto polemica. Peraltro dobbiamo dire che, per mera curiosità, il Vescovo Ferdinando Baldanzi, morendo nel 1866, non avrà per lui la sventura appunto di assistere alla breccia di Portapia, appunto 20 settembre 1870. Ecco, questo è uno dei tanti esempi che Antonio Cardini tira fuori dall'Ottocento senese, qui in quattro pagine, tre e quattro pagine riesce a darci un quadro con delle pennellate veramente, anche ripeto dal punto di vista della narrazione, dello stile storiografico ineccepibili e che fanno veramente, mettono in relazione quella che è una vicenda meramente locale appunto tra un parroco di periferia e il suo Vescovo, ma la inquadrano in un contesto che è quello appunto che ho cercato di delineare. Secondo passaggio, dalla seconda metà dell'Ottocento alle elezioni del 1920. Sì, a Siena si votò, non per le regionali ovviamente, ma fu un anno elettorale e qui è un passaggio assolutamente fondamentale, perché quello che viene fuori dopo dal punto di vista della classe che aveva sempre avuto il potere in città e ovviamente attraverso la sua azione di potere nelle campagne, l'aristocrazia inizia ad avere paura. Nel 1919 a livello nazionale elezioni col sistema proporzionale che vedono anche nel senese una vittoria clamorosa del Partito Socialista, quindi una sinistra che è ancora un'unità perché, come si ricorderà, la scissione poi livornese fra socialismo e Partito Comunista è del gennaio del 21. Allora la paura veramente, è il caso di dire, non so se si possa dire che fa una volta, ma di sicuro permette quello che è un qualche cosa di clamoroso a livello politologico, perché praticamente assistiamo a una situazione con tutte, dico tutte, anche gente che da quello che si capisce si era detta un po' di tutti i colori, vedete che la storia poi si può ripetere, si mettono insieme tutte le forze politiche locali e bloccano, come si dice, creano un blocco contro il rischio socialista. La vittoria a livello locale diventa appannaggio del blocco, quindi dal punto di vista dell'aristocrazia e di parte della borghesia, il pericolo rosso del sovversivismo rosso è stato bloccato. Una provincia in cui, ecco, questo è interessante perché praticamente se andiamo a fare una comparazione con l'oggi sostanzialmente è esattamente come oggi, nel senso che abbiamo la provincia con 30 comuni su 36, ripeto 30 su 36 praticamente comuni che sono in mano al Partito Socialista, ma il comune invece che non è nelle mani del Partito Socialista. È una zona in cui questo 1920 vuol dire tante cose anche che accadono dal punto di vista urbanistico architettonico e proprio anche qui vicino. Il 16 maggio del 1920, l'abbiamo ricordato in un incontro quest'estate, proprio c'è un passaggio fondamentale anche dal punto di vista psicologico, perché c'è, a parte la prima piccola rottura che c'era stata a San Lorenzo per la costruzione della ferrovia, della prima ferrovia, ma per la prima volta le mura vengono buttate giù. San Prospero inizia a essere edificato dopo che domenica 16 maggio del 1920 accade questo, viene buttato giù quel tratto di mura che dalla fortezza, diciamo, toccava quello che oggi è un'attività commerciale per capirsi. E quello è un elemento storico importante perché nasce San Prospero, nasce San Prospero Alta e il sindaco era di una famiglia che per la contrada che ci ospita ha una qualche importanza, Pannocchieschi Delci, Emanuello Pannocchieschi Delci che fa un discorso ovviamente celebrativo e tira fuori l'espressione Sena Vetus Nuova, che sembra, è in qualche modo un simbolo, ma fa capire che il vecchio, il Vetus, si va a coniugare con il nuovo, perché il nuovo è l'apertura a questo stile, lo stile Liberty e che tra l'altro ricorda certi stilemi architettonici, urbanistici inglesi che ancora oggi ovviamente si possono ben vedere. Quindi vedete, quello che accade nel 1920 alla fine quindi della prima guerra mondiale è un primo passaggio, un primo snodo assolutamente importante. La città è nella sua maggioranza, il capoluogo di provincia si dimostra in maggioranza ovviamente moderata e la provincia è rossissima, la ferro rossa d'Italia, ma ovviamente è una base operaia ancorché ridotta, però c'era, c'era l'importanza della ferrovia e quindi di tutto l'indotto ferroviario, Massimo Bianchi ha giustamente ricordato gli studi del professor giornaggi da questo punto di vista, Siena che a metà dell'Ottocento era stata una città all'avanguardia dal punto di vista ferroviario, poi le cose purtroppo si sono fermate lì al 1849 o poco oltre. Però questo ripreso nel 1920 è un passaggio veramente importante e poi si arriva a quello, come dicevo, terzo punto e ultimo, la Siena del 1945, 1945 poi 70 e qui c'è il passaggio decisivo. Se Siena ha attraversato tutte le rivoluzioni in modo, forse rispetto ad altri centri della stessa dimensione, piuttosto sommacchiuso, ecco la rivoluzione che non si chiama rivoluzione, ma il passaggio del 1945 è un passaggio fondamentale, nel 1944 ovviamente c'è la liberazione, ma insomma la fine della seconda guerra mondiale, quindi il 1945 è la data assolutamente decisiva, è quella che segna veramente per la città un passaggio dal primo al dopo, dall'ante al post. Dal punto di vista economico, perché cambia quello che era l'assetto che andava avanti e che era andato avanti anche dopo il 1820, dopo il fascismo, durante il fascismo, si passa e Antonio Cardini anche qui con intelligenza e acutezza lo fa notare, si passa, cosa abbastanza rara? Dal sistema, dal primario, dall'agricoltura dominata dal sistema mezzadrile, si passa senza soluzione di continuità al terziario, praticamente quasi si salta, quasi, perché appunto delle eccezioni ci sono, il settore secondario, l'industrializzazione, quindi questa è un'anomalia, forse una delle tante di questa città e del suo sviluppo, dal settore primario quindi alla terziarizzazione diffusa che poi è quella che fino a ora più o meno è andata avanti, ora qui si naviga un po' a mare aperto, diciamo così. C'è però attenzione perché qualche tentativo, oltre a quello che già era stato fatto all'inizio del 1900-1904, c'è l'istituto sierologico che crea le basi per un qualche cosa che resta ancora, ma c'è un tentativo poco ricordato, ma di impiantare e Antonio Cardini giustamente, anche se senza dilungarsi lo ricorda, di portare l'industrializzazione in città, nei suoi dintorni, l'Ignis, 3 ottobre 1967, quindi qualcuno magari si ricorderà anche l'evento, noi no perché siamo tutti più giovani, ma Aldo Moro, Giulio e Andreotti si scomodarono per venire a Siena a inaugurare questo stabilimento che però poi non portò quello sviluppo che ci si sarebbe aspettato e potesse portare. Però dal punto di vista economico, batte molto su questo Cardini, questo è il passaggio decisivo. Dal punto di vista demografico, anche questo per capire la Siena di oggi bisogna riandare a questo periodo. vi accennavo prima il picco assoluto di abitanti, censimento nel 1971 e Siena arriva ad avere 66 mila abitanti e questo è il massimo. Ovviamente noi sappiamo che poi questi sono abitanti nel senso residenti formalmente, sappiamo che nel contesto pratico Siena oggi gente che dorme in città probabilmente ce n'è o ce n'era di più, ma questi sono residenti a livello formale e ufficiale. 66 mila abitanti che sono frutto di un inurbamento, un inurbamento che ha veramente degli aspetti che andrebbero approfonditi ulteriormente, ma Antonio Cardini e altri lo hanno già fatto e questo inurbamento porta una omogenizzazione fra città e campagna che non c'era mai stata, perché non c'era assolutamente mai stata. Federico Tozzi, mi permetto di citare solo questo passaggio molto rapido, anche perché quest'anno sarebbe stato l'anno del centenario, purtroppo il Covid ci ha impedito per ora di celebrarlo degli eventi, ma recupereremo. In Tre Croci c'è questo passaggio che Antonio Cardini ricorda, ma questo è Tozzi. La campagna era di un'ampezza che non finiva mai e Siena, in quel silenzio quasi taciturno ma soave, sembrava tutta raccolta in se stessa. Questa è la situazione descritta da Tozzi, perché Tozzi more nel 1920, di cui si diceva proprio prima. Fino al 1945 questa è Siena, il rapporto Siena-Città e Siena-Campagna e questo poi cambia tutto dal 1945. L'urbanistica cambia, l'urbanistica ovviamente, il piano regolatore piccinato, lo sviluppo a nord-ovest della città, che è un sviluppo contrastato, è un piano regolatore contrastato, perché bisogna dire e mi fa piacere che in questa storia di Siena Antonio Cardini, pur figura sul cui DNA contro Vaiolo nessuno potrebbe dire niente, però ha parole dure, ha parole critiche con le dirigenze di allora delle contradi, ovviamente non entra nel dettaglio, le quali dirigenze in larga parte agli inizi degli anni 50 volevano fare fronte rispetto a questo problema dell'inubbamento di Mossa con uno sviluppo diverso da quello previsto da Piccinato e poi vincente, previsto da figure come Mario Bracci, Bianchi Bandinelli, insomma non proprio in ultimi arrivati. Invece del sviluppo nord-ovest, lungo la direttrice nord-ovest, si voleva costruire dentro, si voleva costruire a macchia di Lopardo, occupare le valli verdi, le valle di Follonica per esempio, peraltro se ne parlava già dagli inizi del Novecento, ma la valle di Follonica e non solo quella, è una valle che lì ha rischiato seriamente di vedere, qualcuno può anche dire sarebbe stato meglio, la valle di Follonica ha rischiato concretamente e seriamente di diventare un quartiere, ma anche altre zone verdi all'interno del perimetro urbano. L'età che va dal 1950 al 1970, ricorda Antonio Cardini, è l'età dei geometri, in che senso? Nel senso che a Siena, nelle vicinanze ovviamente, nella periferia sienese, non si era mai costruito così tanto in tutti i secoli precedenti rispetto al ventennio 50-70. Il resto, dicevo prima, siamo al 70-71, sono passati 50 anni da ora e quindi la storia finisce qui e inizia un'altra fase che è appunto quella più legata e più avvicinabile all'attualità. Certamente l'assetto degli anni 70 è un assetto che ora, per motivi che qui non vale nemmeno conto di dire che si è in larga parte esaurito o è in fase di esaurimento. Finale, perché credo che sia giusto dire qualcosa di conclusivo in questo senso, si dice che il grado di civiltà, di una collettività, di una civitas si misuri essenzialmente, questo lo dicevano nell'Ottocento, ma io credo valga anche ora nel XXI secolo, da due elementi precipui, il rispetto degli animali e il rispetto di chi non c'è più. In questa città, in questa collettività, sicuramente che ne dica qualcuno, ovviamente siamo assolutamente all'avanguardia nel primo caso, forse anche troppo rispetto ad altre cose, ma sicuramente siamo all'avanguardia. Ritengo che si possa fare di più, molto di più, per ricordare che invece non è più fra noi, persone che hanno lasciato un segno, un'impronta, più o meno grande, sicuramente importante. Noi stasera qui stiamo facendo ciò, credo, lo dicevo all'inizio, lo dico in conclusione, che di più nobile credo possa esserci, cioè rendere omaggio a un cittadino senese, un civis senensis, che ha portato il suo contributo fino alla fine, come ricordava Massimo Prima giustamente, il suo contributo di intelligenza e di cultura per rendere la sua collettività più consapevole di se stessa, dunque migliore. Grazie. Bene, io a questo punto direi se ci fosse qualche intervento da parte degli amici con Tradaioli, da parte dei colleghi di Antonio, da parte della famiglia, se qualcuno vuole ricordare aneddoti, vuole peraltro anche interlopire per gli interventi che ci sono stati di Raffaele, di Massimo, sarebbe cosa gradita se ci fosse qualcuno che vuole intervenire. Credo di dover dire qualcosa perché sono stato il primo allievo, sono stato il primo allievo che ci siamo trovati per caso, io facevo il ferroviere per l'esattezza dell'epoca e di andare a chiedere la tesi sulla storia dei ferroviere e delle ferrovie a Siena, è da lì che poi viene la città ferroviaria che poi ho studiato dopo e che hanno ricordato sia Massimo, sia Raffaele. Era appena diventato professore associato, era il 90, era il 90, quindi, eh, 87, sì, era professore associato da poco e andare a chiedere la tesi. Da lì mi ha lasciato, naturalmente è un'impronta fondamentale perché per me è stato il maestro, il principale maestro, ma soprattutto mi ha lasciato libero di fare ricerche su quello che preferivo. Poi ha seguito un altro settore, diciamo, che è quello del dibattito e invece a un certo punto a distanza di anni mi disse, te invece non sei per il dibattito, sei per la storia pratica, cioè infrastrutture, quello che si fa, non quello che si dice ma quello che si fa. Però, ecco, al di là di questo ricordo personale voglio dire che è stato un maestro per tanti, anche per allievi che poi non hanno fatto la carriera accademica, ma soltanto per studenti che si sono laureati con lui e che ritrovo continuamente, lo ricordano con grande, grande affetto. Di continuo, me lo vengo continuamente a dire, ho fatto anche poi per sei anni il direttore del dipartimento di cui era stato direttore lui all'inizio, anzi ci teneva molto che facessi il direttore e quindi ho rivisto allievi laureati nel corso di tanti anni che lo ricordavano sempre con un enorme affetto. Ricordo soltanto alla fine che sarebbe stato ancora in servizio, cioè se non ci aveva lasciato prematuramente nel 2014, lui sarebbe andato in pensione il 31 ottobre del 2020, quindi sarebbe ancora con noi, quindi questo ricordo che avete realizzato credo sia importante anche per questo, anche in questo senso è il giorno a distanza di sei anni della morte e dell'anno in cui sarebbe andato in pensione perché si va in pensione a 70 anni. Concluimi, grazie per avermi dato la parola. Grazie per l'intervento. A questo punto se non ci sono altri interventi ringrazio sentitamente Raffaele, Massimo per questa loro presentazione che è stata veramente importante e che devo dire fa piacere anche alla contrada tutta, il ricordo di una persona sicuramente come è stato detto da più parti, una persona senz'altro gradevole, una persona bella, una persona buona, una persona alla quale non si poteva che voler bene veramente. Grazie a tutti della partecipazione e buona sera.